Ciao, sono Pietro Chiaventi e immagina non è solo il simbolo di una lista elettorale, è un auspicio, un invito che rivolgiamo a tutti i cittadini che hanno cuore goito. Il nostro progetto nasce da qui, nasce dalla forza delle idee, nasce dal bisogno di credere, di immaginare il futuro e di costruirlo. Per farlo servono passione, impegno, capacità e condivisione. Serve un nuovo modo di amministrare, che metta al centro il cittadino e i suoi bisogni. Per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche del tuo. Per questo abbiamo creato www.immaginavoito.it, un sito internet dove potete fare proposte, segnalazioni per migliorare il nostro paese. È un primo passo concreto verso il cambiamento, è la nostra voglia di rinnovamento e condivisione. Vi chiediamo di partecipare per aiutarci a migliorare, a cambiare meglio il nostro paese. Vi invitiamo venerdì 21 aprile alle 18 per la presentazione del nostro gruppo presso la piazza del comune. È un primo segno di cambiamento, vi aspettiamo!